Ciao amici, bentornati nel canale! Con questo video voglio raccontarvi la Roland TD-17KVX, che secondo me può essere definita la batteria per tutti i batteristi. Dopo vi spiegherò il perché. Ho la fortuna di avere questa batteria presso la mia scuola da ormai qualche anno e quindi ho deciso di portarvi una sorta di recensione test di questo strumento basato su quella che è la mia esperienza. Ho avuto la possibilità di utilizzarla per insegnarci, per fare delle prove con delle band, addirittura per fare dei concerti, quindi possiamo andare a considerare tutte queste attività, quindi prendere uno spettro completo di utilizzi. Questo modello in particolare, o meglio questa centralina, la TD-17, è andata a sostituire il glorioso modello Roland TD-11, portando diverse novità. Iniziamo a guardare quella che è la composizione della batteria stessa, parlando di quello che è la struttura, i pad messi a disposizione, eccetera, eccetera. Partendo dalla struttura, quindi dal rack, devo dire che è piuttosto buono, dovrebbe essere se non sbaglio lo stesso della TD-11, comunque di buona qualità, materiali plastici sì, ma comunque vengono utilizzati anche dei metalli, che rendono comunque il rack molto resistente e ci permette anche di avere molte regolazioni. Ad esempio io non ho veramente avuto problemi a cercare quello che è il mio setup classico e devo dire che Roland sotto questo aspetto la qualità la mantiene sempre. Magari su alcune cose potevano spendere qualche soldino in più, soprattutto sui punti dove si stringe, però comunque sono piuttosto solidi, quindi nulla da dire. Invece per quanto riguarda i pad, devo dire che sono rimasto positivamente sorpreso, perché rispetto alla TD-11, ma anche un modello sicuramente più blasonato come la TD-25, hanno fatto un bel passo avanti per quanto riguarda i tom, comunque i pad in generale, perché soprattutto sul rullante sono passati a un rullante da 12 pollici, quindi bello grande, considerando la fascia di prezzo della batteria può essere comunque considerato un bell'upgrade, soprattutto nel mondo Roland. E stesso discorso per i due tom, perché si passa i 10 pollici. Nei modelli precedenti si era forse agli 8 pollici, o addirittura i 6, invece qua si va ai 10 pollici. Stesso discorso per il timpano, quindi abbiamo tre pad completamente uguali, il che ci permette anche eventualmente di utilizzare il tom 2 come secondo timpano. E per finire con i pad legati alla categoria dei tamburi, abbiamo anche la cassa, che è un modello nuovo rispetto al modello precedente, che devo dire comunque ha sempre avuto una gran bella resa. Per quanto riguarda il charleston, abbiamo questo modello, penso sia il VH10, non vorrei dire una cavolata, che appunto ha già la cosa interessante di avere sotto il sensore e sopra il piatto, quindi è come un piatto acustico, passatemi il termine, in quanto dovete avere voi l'asta del charleston. Considerate oltre l'acquisto della batteria, l'acquisto dell'asta del charleston e del pedale della cassa. Quelli sono a parte. Questo permette di avere molta più sensibilità rispetto al pedale, diciamo, remoto, solo con il cavo, e quindi se dovete fare uno step in avanti, sempre rimanendo nel mondo TD17, perché ci sono diverse sottocategorie, vi consiglio questa perché c'è già il charleston, così che secondo me è molto meglio. I piatti, abbiamo dei crash, molto interessanti anche loro, funzionano davvero bene, doppia zona, quindi avete il trigger che vi prende sia la parte superiore del piatto che l'edge, quindi chiamiamolo il bordo. Ok? Questo è molto interessante, stesso discorso per il ride, che in questo caso è un tre zone, perché avete sia il bordo, sia la parte superiore del piatto, e ovviamente fondamentale anche la campana. Ovviamente lo stesso discorso delle due zone vale anche per i tamburi, avete il trigger che rileva la pelle e che rileva il bordo, questo è fondamentale. Ora andiamo a guardare quello che è l'aspetto legato ai suoni, che ovviamente è una delle cose più importanti per una batteria. Devo dire che rispetto ai modelli precedenti hanno fatto un passo avanti per l'accuratezza nei suoni e si sono basati tendenzialmente su quello che è il modello di punta ancora attualmente, diciamo, che è la Rolandi D-50, quindi devo dire che sotto questo aspetto il lavoro è stato più che egregio. Possiamo modificare ogni suono separatamente, quindi voglio modificare il tom 1, lo posso fare, voglio modificare la cassa, lo posso fare andando a modificare ad esempio la cordatura, la sordinatura ad esempio, possiamo fare un sacco di cose e devo dire che è molto interessante perché appunto possiamo crearci il nostro kit personalizzato o possiamo crearne anche di più, in realtà dipende cosa ci serve, però permette un'approfondita personalizzazione del vostro kit e anche dei suoni, con anche la possibilità di importare suoni esterni. Ovviamente oltre all'aspetto dei suoni è stra-importante quello relativo alla sensibilità e al feeling che danno questi pad. Beh, Roland sotto questo aspetto è una certezza, una sicurezza. Io mi sono sempre trovato benissimo e quando ho suonato questa batteria per la prima volta mi sono sentito subito a casa. Dai colpi veramente più leggeri fino alle dinamiche più alte rispondono veramente molto bene. Per certi versi le Roland, come batterie elettroniche, sono quelle che hanno un feeling migliore, diciamo, perlomeno per quanto mi riguarda, anche perché le suono da anni, quindi mi sono abituato alla loro risposta, alla loro sensibilità. Ovviamente questi parametri possono essere modificati nella centralina, quindi potete modificare un sacco di parametri, dalla sensibilità al threshold, alla curva di sensibilità per avere un feeling diverso, potete fare un casino di roba, quindi potete veramente cucirvela addosso come batteria. Ed è proprio per questo che dico che è una batteria per tutti, perché può essere utilizzata in maniera molto standardizzata, accendendole, suonandole, funziona già da dio. Oppure, se siete dei batteristi un po' più esigenti, con più esperienza, potete comunque andare a modificare praticamente ogni parametro, sia dal punto di vista della sensibilità che del suono. Tra le funzionalità principali e le novità che hanno portato, sicuramente c'è quella del Bluetooth, che sembra una cavolata, però questa è stata la prima batteria Roland con Bluetooth, che cosa permette di fare fondamentalmente? Possiamo prendere il nostro smartphone e collegarlo via Bluetooth, alla centralina di questa batteria, per poter semplicemente riprodurre della musica e suonarci insieme. Invece di avere cavi, cavetti, si perdono, poi non funzionano, oppure come i nuovi telefoni che non hanno più l'uscita per le cuffie, molto semplicemente il problema non ce lo dobbiamo più porre. Tra l'altro, Kikap si può registrare anche MIDI via Bluetooth, quindi non abbiamo nemmeno bisogno del cavo per collegare la batteria al computer per registrare il MIDI, quindi è veramente un passo avanti per quanto riguarda la comodità e la praticità. Se invece non volete utilizzare il Bluetooth, per esempio suonare le vostre canzoni preferite, comunque potete farlo con una semplice scheda SD. Rispetto ai modelli precedenti, che si usava la classica pennetta USB, in questo caso ovviamente si è passati allo standard odierno, che sono le schede SD, che devo dire sono comunque molto pratiche, non avete una pennetta che spara fuori dalla centralina, rischiando anche di passarci vicino e romperla, semplicemente va dentro nel suo slot, non si vede, potete salvare dentro anche le vostre registrazioni, che potete fare direttamente dalla centralina. E parlando di registrazione, come detto potete registrare direttamente dalla centralina, quindi molto interessante, non dovete avere dispositivi esterni, potete riascoltare quanto avete fatto, mi raccomando registrarsi, è una cosa veramente importante, soprattutto in fase di studio, ma potete farlo benissimo anche con il vostro computer, collegate la batteria con un cavo USB A, USB B, per intenderci quello delle stampanti, e potete registrare la traccia pulita della vostra batteria elettronica, per poi poterla lavorare sui vari programmi, sui vari DOV, come Logic, GarageBand, Reaper, Pro Tools, e chi più ne ha, più ne metta. Ovviamente potete registrare sia l'audio, che il file MIDI, per poi eventualmente cambiare i suoni in post-produzione. L'ultima chicca di cui voglio parlarvi, è la modalità Coach. Questa è una modalità in realtà, che è presente da anni sulle batterie Roland, che però ritengo sempre molto interessante. Io personalmente, non la uso praticamente mai, però può essere più interessante magari per chi agli inizi vuole lavorare su degli aspetti, soprattutto dal punto di vista ritmico, e può anche prenderlo un po' come un gioco. Che cosa fa questa modalità Coach? Come dice il nome, è come se fosse un coach, e quindi ci permette di fare degli esercizi, soprattutto per quanto riguarda il tempo. Ad esempio, la più famosa è il time check. Noi fondamentalmente dobbiamo suonare il più precisi possibili sul click. La batteria ci dirà se stiamo accelerando, se stiamo rallentando, quindi se arriviamo prima o dopo rispetto al click. Poi ci sono altre funzioni, ad esempio come il Quiet Count. Eventualmente, se siete interessati ad approfondire queste funzioni delle batterie Roland, fatemelo sapere che posso farci un video dedicato. Comunque sappiate che la modalità Coach c'è, ed è veramente interessante, e anche divertente. Ovviamente in questo video non vogliamo parlare solo delle cose positive. Avendola utilizzata a diverse ore, posso dirvi che ci sono anche dei difettucci che secondo me potrebbero essere sistemati in un aggiornamento del modello, che Roland magari un giorno farà, o appunto col modello semplicemente successivo. La prima cosa che ho riscontrato, e che mi ha dato un po' fastidio, è il rullante, non tanto il rullante, ma il suo supporto. Perché essendo comunque un rullante abbastanza grande, ed essendo a sbalzo, vedete che comunque dall'attacco che è qua, a qui c'è, ci saranno 30 cm buoni anche di più, e questo vedete che crea una grande oscillazione, che fa oscillare, vibrare tutta la batteria. Secondo me questo è un problema, per carità non grave, che però andrebbe sistemato. Come fare? Semplicemente basta prendere un supporto per rullante, uno stand per rullante, e lo si mette su qua il rullante, molto semplicemente. Io faccio così di solito, al momento l'ho rimosso, per farvi vedere la batteria standard com'è, però ve lo consiglio vivamente, perché avete un rullante molto stabile, e i colpi che date sul rullante, non vanno a gravare sul resto della struttura, quindi consigliato un supporto per rullante. Poi per carità, anche se non lo mettete, funziona bene o uguale. Mi è capitato, sempre rimanendo in ottica rullante, ogni tanto di avere un po' di imprecisioni del trigger, anche qua il trigger non è centrale, è laterale, e ovviamente se andate a suonare proprio sopra il trigger, il trigger recepirà dei colpi in modo più forte, e ogni tanto mi è capitato proprio che in alcune zone, prendesse, cioè rilevasse come se io stessi suonando un cross stick, veramente particolare. In questo caso, poteva essere anche un problema legato all'accordatura, o meglio, alla tensione della pelle, che ogni tanto bisogna guardare, anche perché, ovviamente dando tanti colpi alla batteria, le pelli si allentano, quindi date una controllata a quello, in particolare sto rullante, secondo me è abbastanza sensibile all'attenzione della pelle, quindi attenzione, non è una roba grave, però mi è successo soprattutto alle prove con una band con cui suono, che il rullante in alcuni punti fosse poco preciso, però devo dire che hai voglia, cioè va benissimo, però ecco dateci un occhio. Poi andando all'aspetto dei suoni, devo dire che presi singolarmente sono molto belli, però i set di fabbrica, in realtà questo sempre, in casa Roland, non mi soddisfano mai al 100%, è più una cosa personale, me ne rendo conto, però vi do questo feedback, non sono mai super soddisfatto, io prendo sempre un suono e lo modifico, per farlo arrivare più che altro, a un suono più naturale per certi versi, soprattutto i rullanti non mi soddisfano mai al 100%, allora vado a metterci mano. Sappiate comunque, come detto precedentemente, che potete modificare i suoni, e creare i vostri suoni preferiti, quindi comunque potete metterci mano. I suoni originali Roland, per quanto riguarda i set, non sono mai stati super soddisfacenti, dal mio punto di vista, ma è una cosa del tutto personale, magari voi dite, Dave, ma che cavolo dici? E poi per finire, i lati negativi che ho riscontrato, che possono essere comunque personali, è un po' la configurazione della centralina, l'interfaccia, non mi sono mai trovato benissimo, tante volte devo cercare un'impostazione, per come sono messi i tasti, non è secondo me immediato, probabilmente anche perché non la uso tutti i giorni, la mia batteria per insegnare, è una Roland TD50, questa la uso veramente poco, anzi ultimamente non la sto praticamente più usando, non è mai stata secondo me super intuitiva, quindi c'è tutto, è bellissima, però ecco, secondo me potrebbe essere un po' più intuitiva, ecco, scusate la ripetizione. Bene, ma per concludere, perché ho definito questa batteria, una batteria per tutti? Come detto precedentemente, è una batteria, ovviamente che si pone nel mezzo, come fascia economica, penso si possa trovare intorno ai 1800-1900, tra l'altro l'avevo trovata anche su Amazon, per chi è affezionato a quello shop online, vi lascio qui sotto un link in descrizione, anche se vi consiglio comunque di andarla a prendere presso il vostro negoziante di fiducia, così potete anche provarla se ce l'hanno in store, e l'ho definita la batteria per tutti, a parte per la fascia di prezzo, che comunque mi rendo conto che per un principiante può essere una spesa importante, però potete suonarla così di fabbrica, oppure potete veramente personalizzarla a fondo, potete registrare col computer se volete un risultato più professionale per poterci mettere mano anche in post-produzione, potete modificare la sensibilità dei trigger, i suoni per ogni pad, quindi va bene dal principiante, teoricamente, che non ha grandi conoscenze dello strumento e che non vuole spendere tra 4.000 euro o anche più, o per un professionista, può essere comunque interessante per un principiante perché è un investimento che può durare per degli anni, invece di prendere una batteria da 4-500 euro, insomma, che poi dopo un anno già vi ha rotto le scatole e non vi soddisfa, con questo strumento potreste avere una batteria che duri per degli anni, e quindi può essere un investimento interessante, anche perché le batterie Roland mantengono bene il loro valore col tempo, quindi, io lo dico sempre ai miei allievi, se andate su questo marchio, secondo il mio modesto parere, state tranquilli sotto ogni aspetto, anche per quanto riguarda la compatibilità dei pad, eccetera, eccetera. Ovviamente, ripeto, per chi è principiante, può essere una spesa importante, se non avete questo budget, potete tranquillamente spendere di meno e poi fare un upgrade più avanti, però, la consiglio praticamente a tutti i batteristi, dal principiante al professionista. Spero che il video ti sia piaciuto e che soprattutto ti sia stato utile nel caso tu voglia acquistare questo bellissimo strumento. Nel caso lo fosse stato, per supportare quanto sto facendo qui su YouTube, ti invito a lasciare un like e un commento e di iscriverti al canale attivando la campanellina, così rimarrai aggiornato ogni qualvolta pubblico un video nuovo. Inoltre, ti ricordo che sono presente anche su Instagram, se ti interessa vedere più che cosa faccio nel quotidiano, quello è il posto giusto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!